Cristina di per sé è un nome abbastanza affettuoso e significa ovviamente piccola cristiana adepta di Cristo però in questo andazzo di nomi ci sono cose un po' difficili da mettere a posto e invalso l'uso di Christian anziché cristiano. Bene ricordiamoci che Cristo si chiamò così perché era l'unto il crisma del Signore quindi in fin dei conti cristiano significa adepto di Cristo però significa anche colui il quale è collegato all'unto quindi si potrebbe dire untuoso cristiano significa untuoso ma questo ha un senso anche negativo da un punto di vista umano o quantomeno unticcio. Quanto poi addirittura all'insulto cretino tramite il francese cretien viene anche lui da cristiano in quanto per cretien si intendeva lecce homo cioè il Cristo dopo la flagellazione presentato alla folla dicendo ma insomma ne abbiamo già date abbastanza nel senso di povero Cristo conciato male quello è il cretino.